Coming up next on Amazing Facts Presents Una delle cose che viene subito in mente quando si pensa al movimento avventista è il cosiddetto messaggio sulla salute, che è anche l'argomento della nostra presentazione di oggi. È uno dei miei argomenti preferiti. Faremo cenno alla medicina miracolosa, ma voglio iniziare, come faccio spesso, con un fatto straordinario. Se dovessimo pensare a un farmaco miracoloso utilizzato nell'ultimo secolo, quello è la penicillina. È impressionante pensare a quante persone sono morte per semplici infezioni che potevano essere evitate solo perché non avevano i mezzi per prevenirle o per curarle. E quante morti sono avvenute sui campi di battaglia per via della diffusione di semplici infezioni. Il primo a utilizzarla è stato Alexander Fleming, chiamato poi Sir Alexander Fleming, medico al St. Mary Hospital. Aveva notato che una cultura di strafilococchi era stata contaminata da una muffa e che laddove si era sviluppata la muffa di penicillina i batteri non crescevano. Prese nota delle sue osservazioni per fare ricerche più approfondite, ma non passò molto tempo. Era il 1928 che scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e altri tre scienziati della Oxford University ripresero gli studi del dottor Fleming e dissero «Abbiamo urgentemente bisogno di qualcosa per i soldati sul campo di battaglia». Quindi accelerarono le cose per scoprire come riprodurre questa muffa in tempi più brevi. Temevano che i tedeschi potessero bombardare i loro laboratori, perciò erano pronti a portare fuori dal paese questa muffa nascosta nei propri vestiti perché si trattava di uno studio importantissimo su cui dovevano tenere il massimo riservo. Riuscirono a continuare la ricerca in Nord America, non lontano da Peoria, e nella ricerca della migliore cultura offrirono addirittura una ricompensa a chi fosse riuscito a trovare la muffa migliore. La gente portava al laboratorio cibo ammuffito da casa, una signora portò un melone di cantalupo e scoprirono che la muffa di quel tipo di melone era una delle migliori, oltre al fatto che cresceva tre volte più velocemente. Ma non era ancora abbastanza, le prime dosi di penicillina costavano 20 dollari l'una e sapete cosa voleva dire durante la guerra? Eravamo nel 1943, alla fine della guerra, il costo era sceso a 50 centesimi a dose. Era stato fatto un vero e proprio miracolo se si pensa a quante persone sarebbero state etichettate come senza speranze allo stato terminale. Sapete, ci sono tante radio, tante riviste, tanti venditori che commercializzano farmaci miracolosi e integratori per un giro d'affari multimiliardario. Sapete perché? Perché tante persone sono ammalate. Nonostante le prodigiose scoperte nel campo della medicina e i moderni progressi della tecnologia e delle cure, la nostra civiltà è colpita mai come prima d'ora da innumerevoli malattie. Un tempo la gente moriva prima, fino a qualche generazione fa, e morivano più facilmente. Come dire, succedeva e basta. Oggi il decadimento comincia a 50 anni e si vive fino a 80. Nel frattempo si soffre e si sta male. È in atto ed è sotto gli occhi di tutti. Una crisi del sistema sanitario. Ma il problema maggiore della crisi non è solo che molti non hanno l'assicurazione. È indubbiamente un problema che il 15-20% della popolazione non abbia l'assicurazione medica e i costi siano elevatissimi. Ma lasciate che vi svegli una cosa. Mi trovavo in Colombia. Io soffro di febbre da fieno e mentre ero lì mi viene questa febbre. Qui in Michigan c'è l'Ambrosia, lo sapete, no? Negli ultimi giorni c'è stato vento e infatti continuo a colarmi il naso. Quando ero in Colombia la situazione è peggiorata, perciò sono andato in farmacia a prendermi qualcosa. Ho preso una piccola pastiglia che mi ha fatto passare tutto. Qui in America se non avessi l'assicurazione medica mi costerebbe qualcosa tipo 10 dollari a pillola. In Colombia invece non ho nemmeno avuto bisogno della prescrizione medica e mi è costata 10 centesimi a pastiglia. Si tratta dello stesso identico prodotto. Ma ci deve essere qualcosa di rosco dietro. Ne ho fatto una bella scorta comunque. Il problema sono le compagnie di assicurazione e gli immensi interessi economici. Per non parlare dei pronto soccorso intasati. Il cielo non voglia ma se avete bisogno di un pronto soccorso, anche solo per un piccolo problema. Dopo essere stati lì ad aspettare per 4 ore potete veramente prendervi qualcosa di serio. Tutta la gente li infila. La crisi è profonda. Ma sapete qual è secondo me la crisi maggiore? Ve lo dico io qual è la pastiglia che si dovrebbe distribuire a tutti e che nessuno prende. Si chiama pillola della prevenzione. Tutti curano gli effetti ma nessuno cerca di sradicare la causa. La Bibbia contiene questa medicina miracolosa che è la chiave per la prevenzione e per la guarigione. Non si tratta solo di prevenzione ma anche di norme pratiche da seguire per guarire. Diamo allora un'occhiata a cosa dice la Bibbia a proposito di questi principi riguardanti i rimedi miracolosi e longevità. Sapete, la Bibbia ha molto da dire. Numero uno. I principi della salute fanno davvero parte della vera religione biblica? Andiamo a vedere cosa ci rivela il Signore nella sua parola. Leggiamo insieme la terza epistola di Giovanni al versetto 2. Carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. La Bibbia è chiara su questo. A Dio sta a cuore il nostro benessere fisico come quello spirituale. Dio ci tiene. In Matteo capitolo 4, versetto 23, leggiamo E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoge, predicando l'Evangelo del Regno. Era un insegnante, un predicatore, e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Notate che oltre a insegnare e predicare, cosa faceva Gesù? Guariva. Una parte del ministero di Cristo, così come dovrebbe essere per ogni cristiano, era correlata non solo alla salute spirituale della gente e alle loro facoltà mentali, ma anche alla loro salute fisica. In Giovanni capitolo 10, versetto 10, Gesù dice Io sono venuto affinché abbiano la vita, non solo la vita eterna, e l'abbiano in abbondanza, ora. Mi piace questa foto, questo signore è ancora vivo, credo che quando fu scattata questa foto lui era solo tantina. Il suo nome è Banana George. Sapete qual è il suo cibo preferito? La banana. Non togliete la foto, voglio che la teniate sullo schermo per qualche altro istante. Avete notato che non porta la dentiera? Sta facendo sci d'acqua tenendo la corda con la bocca. Se portasse la dentiera dovrebbe avere altro che adesivo dentale. Ha iniziato a fare questo sport a 40 anni, poi ha cominciato a farlo anche a piedi nudi, a 46 anni. Ha iniziato a fare snowboard, a 70 anni, a 90 ancora sciava a piedi nudi. Ovviamente è stato molto esposto alla luce del sole, all'aria aperta, all'acqua, ha fatto tanto esercizio. Tutti ingredienti fondamentali per la salute e per la longevità. Ora, perché un cristiano dovrebbe tenere alla salute? Ebbene, la ragione principale è che essa è parte integrante della religione cristiana. La mente umana è un miracolo e questo è un altro fatto straordinario. Sapete, persino con i microprocessori di oggi, oggi sono davvero micro, per costruire un computer che sia capace di fare ciò che fa un cervello umano, ho sentito dire che ci vorrebbe un edificio grande quanto l'Empire State Building per contenerlo. Ci vorrebbe anche tutta l'acqua delle cascate del Niagara per produrre la corrente necessaria e altrettanta acqua per raffreddarlo, un solo cervello umano, perché si surriscalderebbe nel fare ciò che sta avvenendo proprio in questo momento nello spazio compreso tra le vostre orecchie. Sempre ammesso che stiate ascoltando ciò che vi sto dicendo. Avete questo straordinario computer elettrochimico di circa un chilo che elabora e registra una quantità immane di informazioni. Pensate solamente a ciò che sta accadendo in questo preciso istante. Mentre vi parlo, il mio cervello non solo controlla i miei pensieri, le mie parole, i muscoli della mia bocca, i miei occhi, la mia postura, ma anche il battito del cuore, la mia temperatura corporea, il mio respiro e milioni di altre funzioni in cui non sto nemmeno pensando. È un miracolo! E pensate che ci sono voluti solo 50 miliardi di anni perché le cose si evolvessero in questo modo. Scusate il sarcasmo, non credo sia frutto dell'evoluzione. Ora il cervello è un organo unico non solo dal punto di vista fisico. Noi tutti sappiamo che se non riceve sangue e ossigeno, muore. Il fatto però è che persino i neurochirurghi non capiscono come vengono immagazzinati i pensieri. Un pensiero è qualcosa di spirituale. Il cervello dunque è il mezzo principale tramite il quale Dio comunica con voi. Dio non vi parla attraverso la caviglia. Voi potete dire anche il Signore è nel mio cuore, ma vedete anche se aveste un cuore artificiale potreste continuare a dirlo perché Dio non si trova nell'apparecchio che pompa il sangue. Non ho invece conosciuto ancora nessuno che abbia detto ho un cervello artificiale o che abbia avuto un trapianto di cervello. È il luogo santissimo. Dio vi parla tramite il cervello, pur essendo un organo fisico. Esistono cose che potete fare a livello fisico per prendervi cura della vostra mente. Più in salute sarà il vostro corpo, più lucida sarà la vostra mente. Ecco perché è importante mantenersi in buona salute. Più lucida è la mente, più sarà facile sentire la voce dello Spirito Santo. È vero. Satana vuole annebbiare il nostro cervello e distruggere la nostra salute perché ci vuole rendere più difficile comprendere le verità spirituali e sentire la voce del Maestro mediante lo Spirito. È fondamentale prendere coscienza di questa connessione. Ecco perché Satana ha preso possesso di un'intera generazione che è tanto frastornata da droghe, musica rock e videogames che non riesce a pensare lucidamente e sentire la limpida voce dello Spirito Santo che parla mediante i sensibili nervi e le sinapsi che hanno luogo nel loro cervello. Una delle ragioni più valide per prendersi cura della propria salute è quella di prendersi cura della propria mente perché è proprio per mezzo della mente che Dio ci parla. Il nostro desiderio deve essere quello di essere in salute e avere una mente lucida per poter adorare e servire meglio Dio. In altre parole, i tre motivi per prendersi cura della propria salute sono prima di tutto glorificare Dio, secondo per amore del nostro prossimo e per metterci a suo servizio, terzo perché vogliamo bene a noi stessi e ci sentiremo meglio. Godrete di una vita più lunga e più sana se vi prendete cura della vostra salute. Non lo ribadirò mai abbastanza. La Bibbia insegna anche il digiuno, anche se non se ne sente più parlare. Eppure è un insegnamento sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento. Amen! Il digiuno dà alla mente l'opportunità di riposare e al sangue di purificarsi perché a volte mangiamo tanto che il sangue si riempie di zucchero, di grasso e di tutto ciò che mangiamo e ci offusca il pensiero. È bene digiunare di tanto in tanto, idealmente un giorno a settimana. Non voglio mettermi in mostra come il fariseo, ma cerco di digiunare almeno per un pasto o anche più. E trovo che questo mi sgomberi la mente. Sento più distintamente la voce dello Spirito Santo e questo è un elemento della buona salute. Non solo, ma il digiuno insegna anche l'autocontrollo. E nella nostra cultura non piace aspettare per il cibo, giusto? Se il pranzo slitta di dieci minuti, diciamo subito che ci sentiamo a morire di fame. E la maggior parte di noi non sa nemmeno cosa vuol dire morire di fame. Numero 2 Perché il Signore ha dato queste norme sulla salute al suo popolo? Deuteronomio, capitolo 6, versetto 24 Dio disse ai figli di Israele che si stavano inoltrando nel deserto e che se lo avessero servito lui avrebbe benedetto il loro cibo. Io spero che voi preghiate e chiediate una benedizione per il vostro cibo. E avendo seguito i principi dati da Dio, quando i figli di Israele lasciarono il deserto ed entrarono nella terra promessa, ascoltate cosa si dice di loro. Salmo 105, versetto 37 E fece uscire il suo popolo con argento e oro e non vi fu alcuno fra le sue tribù che vacillasse. Dopo aver seguito i principi che Dio aveva dato loro per 40 anni, Il popolo di Israele è una nazione di circa 2 milioni e mezzo di persone che hanno attraversato il deserto per entrare nella terra promessa. Riuscite a immaginare una città di 2 milioni e mezzo di persone e gli ospedali vuoti? Non sarebbe bellissimo? Non vi fu alcuno fra le sue tribù che vacillasse. Ve lo dico io come risolvere la crisi sanitaria in Nord America. Se tutta la popolazione iniziasse ora a seguire i principi biblici sulla salute, la situazione si ribalterebbe. Ovviamente le industrie farmaceutiche e gli ospedali avrebbero qualche problemino e non sono sicuro che sarebbero pronti a questo. Guadagnano di più con la cura delle malattie che con l'insegnamento della prevenzione. Perché l'insegnamento della prevenzione può essere gratuito. Numero 3 Le regole sulla salute di Dio hanno qualcosa a che fare col mangiare e col bere? Ebbene, la Bibbia ha molto da dire su questo. Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 31 Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose, cosa dice? Alla gloria di Dio. Ora, se è possibile mangiare alla gloria di Dio, possiamo tranquillamente affermare che è anche possibile non mangiare alla gloria di Dio. È possibile mangiare alla gloria di Satana. Che è quello che fanno molti per il modo in cui mangiano e bevono. Isaia, capitolo 55, versetto 2 Dice, mangerete ciò che è buono. Dio non ordinerebbe di mangiare ciò che è buono se non fosse possibile. Alcuni mangiavano ciò che non era buono. Non è irrilevante. Ha un determinato effetto sul nostro corpo, sulla nostra mente. Influisce sulla nostra relazione spirituale con il Signore. Numero 4 Quale dieta ideale diede Dio agli uomini alla creazione? Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, qual era la dieta ideale che ha dato loro nel giardino dell'Eden? Se andiamo alle origini, possiamo apprendere qualcosa sulla dieta ideale. Genesi capitolo 1, versetto 29 La dieta originale per l'uomo era a base di frutta, cereali, frutta a guscio e legumi. Questa era la dieta originale E questa è la dieta ideale L'uomo mangiava dall'albero della vita e il piano era che fosse immortale Doveva vivere per sempre Faceva parte del piano originale di Dio Dopo il peccato, l'uomo fu cacciato dal giardino dell'Eden E non poteva più mangiare il frutto dell'albero della vita Evidentemente gli venne a mancare qualcosa che l'albero della vita poteva offrire Dio doveva integrare questa carenza con prodotti sostitutivi E in Genesi capitolo 3, versetto 18 Dice all'uomo che avrebbe potuto mangiare i vegetali Scommetto che ci sono tanti giovani pronti a dire che questo faceva parte della maledizione E ha detto, tu mangerai l'erba dei campi Permettetemi di sottoporvi a un piccolo quiz Sapete qual è la differenza fra un frutto e un ortaggio? Ok, pomodoro, frutto o ortaggio? Frutto, bene Zucchina? Giusto Molti pensano che sia un ortaggio Patata Ortaggio Melanzana Frutto Qualcuno di voi sa qual è il criterio? Molto bene, siete più bravi di molti altri Alcuni pensano che la melanzana sia un ortaggio E altri credono che quel tipo di zucca gialla allungata sia un frutto Se i vostri bambini non mangiano zucchine potete sempre dirgli che è come se fosse una banana verde Vedete se funziona Fate finta, tanto sono frutti La differenza fra un frutto e un ortaggio è che il frutto è il prodotto della fioritura della pianta, qualsiasi pianta L'anguria è un frutto, il melone giallo è un frutto e fanno parte della famiglia delle zucche Il pomodoro è un frutto Tutto ciò che è il prodotto della fioritura della pianta come mele, pere e mandarini è un frutto Tutto ciò invece che viene da qualsiasi altra parte della pianta, la foglia per esempio, è un ortaggio Il gambo, ortaggio, la radice, ortaggio Perciò se non è il prodotto della fioritura e ha ovviamente i semi Che è come avere i frutti a guscio eccetera Va bene, quella è la dieta ideale, la dieta vegetariana E su questo non si discute, è lampante che la dieta vegetariana è l'ideale per l'uomo Quanti di voi hanno letto il servizio di National Geographic di qualche mese fa In cui veniva sottolineato che gli avventisti del settimo giorno sono una delle comunità più longeve O perlomeno fra le più longeve con meno malattie E vi assicuro che quelle statistiche sarebbero ancora migliori se gli avventisti seguissero più fedelmente ciò che sanno essere giusto Mi stupisce il fatto che attiriamo l'attenzione perché sono ancora tanti quelli che non seguono ciò che sanno E infatti tanti sono vegetariani, che va bene, ma poi si abbuffano di zucchero, perdonatemi Tirandosi dietro un sacco di altri problemi Se solo seguissimo i principi sulla salute Eppure nonostante tutto i National Geographic e altre riviste hanno condotto numerosi studi Perché fra gli avventisti l'incidenza di certe malattie, di certi tumori è molto inferiore Proprio perché sono prevalentemente o in gran parte vegetariani Io sono vegetariano da 30 anni E penso che sia capitato a qualche buffet che qualcuno mi abbia rifilato qualcosa a mia insaputa Ecco perché preghiamo prima di mangiare E qualche volta nel ristorante dell'aeroporto succede che devo accantonare qualcosa nel piatto Capite cosa intendo Ma sono vegetariano da 30 anni Sono nonno e penso di essere abbastanza in salute Non vi faccio vedere una capriola all'indietro Ma guardate questo Ok Questo è il massimo che farò per oggi Ho 5 nipoti Se sei vegetariano fammi vedere come te la cavi con questo Vi sentireste molto meglio Sapete ho giocato a racquetball con alcuni signori qui presenti Vedo Dane laggiù Dane solo non sono in forma Ok ha giocato racquetball con me L'idea che con la dieta vegetariana non si assimilino abbastanza carboidrati o abbastanza proteine È un falso mito Si assimilano un sacco di proteine E la gente che vi dice che avete bisogno di proteine Spesso dice che ne avete bisogno molto più del necessario Il fatto è che la maggior parte delle persone più longeve sono vegetariane Un paio di anni fa sono andato in Australia con la famiglia e abbiamo visitato l'Australia Zoo Ci hanno presentato la tartaruga Harriet Ecco una delle foto che ho fatto La sua è una storia incredibile Fu catturata nel 1845 da Charles Darwin In realtà Charles Darwin pensava che fossero Tom, Dick e Harry E per anni hanno creduto che Harriet fosse Harry Dopo aver vissuto in Inghilterra per alcuni anni Erano grandi quanto un piatto Quando le portò in Inghilterra Un paio di loro sono morte Tom e Dick sono morti Harry è sopravvissuto Ma Darwin ci soffriva perché la tartaruga non stava molto bene L'ha messa su una baleniera e l'ha rimandata in Australia Harry ha vissuto nel giardino botanico E poverino per anni lo hanno costretto a relazioni contro natura Per farlo riprodurre Non sapendo che Harry in realtà era Harriet Alla fine fu venduta all'Australia Zoo Lei La creatura più anziana di tutta la terra di cui si avesse notizia Ha ora 175, 176 anni Ed è vegetariana Perciò se diventate vegetariani assomiglierete a lei No, scherzo Numero 5 Quali cibi sono specificatamente classificati come impuri e vietati da Dio nella Bibbia? Sapete, ci sono alcune cose che Dio dice che non dovreste assolutamente mangiare Sono impure Sono una abominazione Non le mangiate Troviamo in lista in Levitico capitolo 11 versetto 3 Dove leggiamo Potete mangiare di ogni animale che ha lo zoccolo spaccato e il piede di viso e che rumina Un animale quindi deve avere entrambe le caratteristiche Deve ruminare come una mucca o una pecora o una capra E deve avere lo zoccolo spaccato Se hanno queste due caratteristiche sono considerati animali puri Se non hanno queste due caratteristiche pur essendo mammiferi non vanno mangiati Ora, alcuni di voi avranno sentito parlare della piramide alimentare Che è stata pubblicata in Nord America da alcune industrie del settore della salute Probabilmente l'avete già vista in altre occasioni Vi sono indicati i cibi che andrebbero consumati più spesso E quelli che andrebbero consumati meno per vivere in salute Alla base ci sono pane, cereali, riso, pasta Al gruppo numero 1 appartengono quei cibi che dovrebbero costituire la parte predominante della vostra dieta Nel gruppo numero 2 vediamo la frutta e la verdura Personalmente penso che questi dovrebbero trovarsi alla base Poi vengono la carne, il formaggio e tutti i prodotti di origine animale In cima troviamo i grassi e gli oli Sapete, sono convinto che vivreste decisamente meglio se eliminaste gli ultimi due strati della piramide Vivreste più a lungo, vi sentireste meglio e avreste molti meno problemi di salute Avreste più forza, ve lo dico perché l'ho sperimentato di persona Non ridete, vi faccio vedere una vecchia foto Una volta lavoravo in proprio e vendevo bistecche Come potete vedere dalla pubblicità sulla Volkswagen che dice Vendita all'ingrosso di bistecche di prima qualità Con la mia attività acquistavo tranche di bue che poi tagliavo in bistecche Guidavo per la città del deserto nella mia Volkswagen che aveva un rifrigeratore nel portabagaglio E vendevo bistecche di manzo I tagli migliori però li tenevo per me Mangiavo bistecche letteralmente tre volte al giorno A colazione mangiavo bistecche e uova A pranzo un filetto e a cena una bistecche con l'osso Ero molto vorace, avevo un girovita di 80 centimetri Incredibile Alla fine concludevo con una coppetta di gelato prima di andare a letto Capii subito che quella dieta non andava bene E divenni vegetariano ancora prima di diventare avventista Per me non si trattava di un principio religioso E' che avevo imparato talmente tanto nel periodo in cui vendevo quintali di carne I problemi dell'industria, i temi della salute Che pensai Mamma mia, questa roba non va bene Gli animali non sono sani eppure ne vendono la carne Se a volte proprio proprio non sanno che farne la trasformano in hamburger Se solo sapeste cosa ho saputo io Vi farebbe molto più facile apprezzare la dieta vegetariana